ciao sono stefania e arrivo da torino io e da poco che sono qui a roma ho 49 anni e da quando sono a roma ho cambiato completamente la mia vita avevo un ex marito che non era un granché e una figlia di 15 anni e ho dovuto cambiare completamente città per uscire a rinascere e nel frattempo ero quasi riuscita ad arrivare al mio peso forma perfetto quando sono ritornata qui con tutte le discussioni le problematiche che ci sono state legate alla giudiziale per ottenere mia figlia e tutto quanto ho ripreso le cattive abitudini e cattive abitudini che mi hanno portato purtroppo ad appesantirmi tanto e la cosa non mi piace fare niente perché solitamente sono molto energica ho sempre voglia di fare ho voglia di saltare di ballare se mi chiedono di andare a fare una passeggiata preferisco 3000 volte fare una passeggiata che andare a fare shopping o andare a fare una mangiata al ristorante come tanti preferiscono e questa energia ho voglia che che gil che ha tanta voglia di fare che la trasmette in una maniera esasperante pazzesca o voglio che faccia voglio che faccia parte di me come se mi volesse mi dovesse buttare giù da un burrone ragazzi sono qui con stefania sono molto contenta perché stiamo raccontando le storie di donne vere che hanno storie vere da raccontarci ciao stefania ciao gil sei emozionata tantissimo tanto 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 non devi essere emozionata perché comunque siamo qui da donna a donna a parlare a tu a tu per tu e per tutte le nostre amiche allora tu hai avuto diciamo un ex marito un po come il mio da quelle che mi hai detto allora parliamo di questi padri padroni manipolatori uomini che vogliono annientare le donne perché lo parlo anch'io dal dal mio stesso diciamo viaggio così non sei sola dammi la mano non sei sola sei con me e non c'è vergogna non c'è vergogna perché io sento ancora che sei molto ti senti quasi in colpa per quello che ti è successo o sbaglio purtroppo ho dato il padre sbagliato a mia figlia e quindi anche lei ha avuto brutte esperienze e sarete porterà dietro per tutta la vita però dobbiamo essere forti e siamo donne abbiamo la falla la possibilità di poterlo fare andiamo avanti io una domanda per farti da farti tu ci credi che sia possibile a riconquistare cento per cento la tua vita la tua felicità la tua autonomia la tua forza la tua potenza la tua gioia sì dovrò tirare fuori tanta tanta energia che spesso volentieri uno cerca di prenderlo da da ciò che ci circonda ma nella maggioranza dei casi siamo noi donne come sempre che dobbiamo tirare fuori la forza e tirarne fuori per noi stessi e per tutti gli altri quindi ricominciamo da capo adesso gil mi butta giù dal burrone e io ricomincio da capo ok che cosa vuoi da questo percorso sicuramente togliermi i piccoli che mi appesantiscono non è non esiste che per fare determinati movimenti o cose io debba avere male non non esiste proprio e sicuramente arricchimento l'autostima e la possibilità di avere tanta energia per fare quello che fino ad ora per determinate motivazioni problematiche non ho potuto fare come dice sia alessandro che gil assolutamente c'è sempre una possibilità per poter andare avanti e non mai dire mai si può tranquillamente iniziare anche adesso non è troppo tardi ti sei perdonata per questo che ti è successo no purtroppo no però spero e sto molto guardinga con mia figlia che effettivamente gli stessi errori se ne faranno sicuramente altri ma gli stessi errori non si debbano assolutamente fare perché non e buttar via anni belli della propria vita e non è non si fa quanti anni ha tua figlia mia figlia ha 15 anni è 15 anni quindi è nel momento in cui la posso lasciare ma per poco sempre attenzione verifichiamo effettivamente che cosa in grado di fare che cosa non è in grado di fare e voglio crescerla con effettivamente dei buoni dei buoni propositi e che non abbia che non faccia almeno gli stessi errori che ho fatto io sicuramente che non si metta a fianco una persona che non la rende libera e non le fa fare quello che lei preferisce vorrei che ti guardassi in dentro quella telecamera e dire se grande mi amo mi accetto come sono sono grande mia mi amo e mi accetto come sono mi perdono mi perdono sono una grande sono una grande io posso fare tutto io posso fare tutto e mi amo e mi amo perché sembra che non ci credi una fatica una fatica allora amici qui è nia sai che ovviamente io non posso cambiare la vita in dieci minuti però posso aiutare le donne a ripartire da la partenza più importante cioè l'amore per se stessi l'autostima una stima di quanto io penso di meritare no stima credo questo è il valore che io valgo è così nia sai che stefania io ti aiuterò a affrontare le basi cioè io posso anche allenarti otto ore al giorno ma se se c'è qualcosa sotto di te che non crede che sia possibile o giusto per te o ti sta ancora nella fase di punirti per aver sbagliato ci abbiamo problemi ok invece tu ti devi amare accettare aiutare e renderti conto di una cosa molto importante errare umanum est perseverare è che cos'è perseverare è questa persona non ha più controllo su di te sbagliare succede è l'unica cosa che possiamo fare è ripartire corretto assolutamente sì ok così ripartiremo con lo sport la nutrizione pensiero positivo e andremo avanti sei pronta yes i can yes i can partiamo uno due tre yes i can pronte per il tuo protocollo allora prendi la tua borsettina partiamo con la pelle ok perché vederci più freschi più riposati ci piace nello specchio ok così partiamo con il siero di bava di lumaca lo mettiamo pochissime gocce mattina sera e poi ti metterai regenerate che è una crema molto ricco di collagene di peptide di collagene di asfodello che ci aiuta proprio a rigenerare il collagene ma anche illuminare la faccia così prima siero e poi regenerate poi il più possibile il collo di bigood che è un collo che ci aiuta a rigenerare il collagene ed è imbevuto di acido ialloronico che ci fa un effetto lifting anche per il collo ok se non riesci metterlo di giorno mettila di notte per dormire ok rimanendo su bigood sempre per drenare tonificare le gambe a perdere i centimetri della ritenzione idrica nostro bigood con questo nuovo flexi fit che è per le ragazze curvi sei contenta ok così facciamo la nostra prova facciamo vedere come funziona e vedremo in quanto e come cambia le diciamo le cosce e i volumi sulla pancia sull'enatica sull'esterno coscia ok e poi andiamo a parlare del metabolismo ok metabolismo sempre molto importante io ti darò tre prodotti allora forscolina glicofen proprio per forscolina eccellente per le donne a forma di pera come come la tua conformazione glicofen sempre per aiutare il nostro metabolismo in particolar modo dei zuccheri e poi l carnettina che aiuta a metabolizzare gli acidi grassi nel corpo questi la mattina queste prime di pranzo per aiutare il metabolismo riattivare lo sport tutti i giorni sulla palestra naugercuper.com ti darò incomodato d'uso un trampolino questo trampolino deve essere utilizzato almeno tre volte a settimana per circa 30 40 minuti con la palestra online è super facile perché gli allenamenti ci stanno tutti i giorni avrai l'abbonamento gold e così avrai l'imbarazzo della scelta di come allenarti tutti i giorni non cominciare me la farai tutti i giorni tutti i giorni il tre giorni tre volte a settimana non mi piace tutti i giorni si deve cambiare completamente trampolino ma ci sono anche fluidi ci sono anche pesi ci sono anche addominali c'è anche aerobica c'è tanta roba sulla mia palestra almeno trampolino poi se me la fai tutti i giorni meglio ancora meglio ancora meglio ancora poi andiamo anche noni noni è un adatto genico molto potente che ci aiuta con il riequilibrio ormonale ci aiuta proprio trovare le omeostasi eccellente una anche un antiossidante molto potente e ci aiutiamo proprio il nostro corpo poi mai dire dieta questo è il tuo diciamo guida la tua guida per la prossima tre settimane perché ci sono tre settimane di consigli proprio della dieta fatta da dietologo sascia sorrentino ok non sono dietologa ma abbiamo collaborato a detto fatto per tanti anni insieme e così tu devi seguire il protocollo per la forma pera ci sono anche un sacco di ricette interessante e non finire quantares quantares ci aiuta con l'equilibrio ci aiuta con la postura ci aiuta con l'energia e ti aiuta anche con dolori articolari sei pronta pronta per partire assolutamente sì assolutamente sì e mi prometti di fare le cose tutti 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 i giorni assolutamente sì voglio assolutamente cambiare yes i can yes i can siamo tornati con veronica veronica è tornata con yes i can come stai veronica tutto bene grazie sono la bellezza di due anni che non ci vediamo abbiamo finito la prima stagione di yes i can insieme e tempo sembra ieri ieri sì mi sembra ieri che mi hai detto due anni che sono passati due anni allora sono molto contenta anche onorata che veronica è venuta a trovarci perché noi stiamo provando a raccontare le donne e tu sei una donna forte grazie simpatica grande madre di famiglia e però è una storia anche importante a raccontare le nostre amiche parliamo della prevenzione e perché perché stavamo parlando del fatto che il tumore al seno si chiama così si chiama così non ci nascondiamo perché quando si usa la parola il tumore le persone fa paura fa paura però anche per certi per certi versi fa bene anche di fare un po paura perché parliamo di prevenzione questo è molto importante tu facendo diciamo auto palpettandoti da sola ho scoperto un piccolissimo diciamo un chicco tipo come fosse un fagiolo piccolo piccolo un centimetro fatta la visita e mi hanno detto subito questo è sospetto c'ha ragione signora deve andare a farsi subito vedere è uscito fuori che era un tumore al seno dutale allora e veronica poi ha avuto ovviamente parliamo di da donna a donna ovviamente oltre il spavento poi ha dovuto operarti come era il tuo rapporto con tuo corpo dopo le cure se tutto va bene non cambia niente se c'è le persone giuste vicino diciamo capiamoci quindi sì un pochettino cambia perché ti vedi un po diversa perché lo sei fisicamente diversa però questo diciamo nei primi tempi finché capisci che questa nuova diversità sarà la tua per sempre e ti piace che sei quella tua nuova e cerchi di difenderla con le unghie con i denti sempre mi piace quanto mi piace questa donna perché ragazzi io vorrei che voi prendeste motivazione da veronica ripeto che io ho sempre ripetuto che veronica è molto forte ma io adesso sto parlando magari un'amica là fuori che sta passando un momento complicato ti vedi il corpo cambiato ma il corpo può anche cambiare non per una cosa così importante come il cancro ma magari per meno pausa cominciamo a vedere meno pausa cominciamo a vedere il corpo che cambia cominciamo a vedere il viso che è diverso dalla nostra vent'anni e dobbiamo giocarcela a me tu mi hai detto questo nuovo corpo e me la difendo e me lo devo difendere in tutti i modi perché è mio è mio e cerco di migliorarlo pure però è quello che voglio fare sempre io esatto ma entro secondo me i parametri non della perfezione non dell'eterna gioventù e non di questa bellezza statica o plastica che vediamo sui social secondo me dobbiamo tentare con Yes I Can e con l'invecchiamento che io dico che è un'arte è di provare di migliorare il migliorabile e accettare quello che sta andando verso l'invecchiamento verso un cambiamento che io non posso cambiare eh no diciamo come dico pure io dico la versione migliore di me stessa eh perché se no in ogni età in ogni età cioè poi non c'è età per migliorare cioè si può sempre migliorare a qualunque età e in qualunque modo esatto ma riesci riesci basta che ti riesci a fine come va con arte di gen? molto molto bene non lo vorrei dire però io non li prendo più le gocce antidepressive quelle che li prendevo per il dolore ho proprio smesso di prenderle perché per adesso io con questo antidepressive sto bene non mi fanno più male finita la lezione di jump sudati però non stanchi non ti stancano queste lezioni quindi a me piacciono tanto e mi divertono fuori un po' di relax e poi dopo facciamo un po' di addominali e magari in pomeriggio un altro po' di jump e poi l'altra cosa che abbiamo un sacco di clip che sicuramente possiamo aggiungere a questo in questa puntata del tuo percorso dei tuoi allenamenti dei tuoi cambiamenti però il messaggio di Yes I Can è sempre di questo di metterti in gioco nonostante le tragedie delle vite perché la vita è piena di problemi e a volte tragedie a volte anche a momenti difficilissimi ma non di buttarsi non buttarsi giù mai mai c'è sempre mezzo bicchiere pieno e in tutto il male c'è un pizzico di bene bisogna imparare a vederlo perché non è facile trovarlo però se ci si trova con un po' di impegno ci si riesce allora con il nostro nuovo amico di Yes I Can vi vuoi fare un augurio di questo di questo impegno perché si stanno partendo sono arrivate con tanti sogni con tanti diciamo sogni nel cassetto desideri da migliorarsi vuoi dargli un augurio di questa nuova partenza? io che posso augurarle alle ragazze nuove ma anche a lui e a tutte le altre soprattutto a queste qua migliorate voi stesse fatte di tutto per andare bene per voi stesse non per gli altri non per quello che dice Gil non per quello che dice tuo marito per te deve andare bene per te se a te ti piace ti guardi allo specchio e dici beh però cavolo ce l'ho fatta allora hai fatto 13 andate avanti noi diciamo insieme 1, 2, 3 Yes I Can 1, 2, 3 Yes I Can 1, 2, 3 Yes I Can 2, 3 2, 3, 3 1, 2, 3